Cittadini, partiremo per il fronte a combattere lo straniero! A morte i nemici della rivoluzione! Una guerra che siamo costretti a fare contro i nostri alleati naturali, i miei genitori stessi che siamo obbligati a chiamare nemici anche se si battono per salvare la nostra vita. Il nostro caro cugino d'Austria invece cosa rischia? Non di certo la sua testa! Il nostro caro cugino d'Austria invece cosa rischia? Il nostro caro cugino d'Austria invece cosa rischia?